Si tratta ora di dimostrare il teorema sul centroide, cioè in un triangolo ABC, le tre mediane devono per forza intersecarsi in punto comune, detto G, e ogni mediana è partizionata da G in due segmenti che stanno nel rapporto 2 a 1. Questo è il momento di interrompere il video e di procedere per conto tuo.